L'Olanda è la patria in cui sono nati il grande fratello Ed The Voice, quindi non possiamo certo dire che in materia di reality siano privi di idee. Non c'è da stupirsi perciò se la terra dei tulipani è riuscita a partorire un programma come Adam Cerca Eva, nel quale un uomo e una donna sono costretti a vivere da soli su un'isola semideserta, per l'esattezza Mogomogo, Panama, ovviamente in condizioni molto simili a quelle che siamo abituati a vedere sull'isola dei famosi. La vera particolarità dello show, tuttavia, è che i due partecipanti sono completamente nudi. Insomma, oltre al cibo e all'acqua sono sprovvissi anche degli abiti, quindi immaginatevi l'imbarazzo di dover convivere con una persona dell'altro sesso come mamma li ha fatti. L'obiettivo dello show è scoprire se la coppia ha qualche chance di innamorarsi, e per quanto l'idea possa sembrare assurda, in Olanda si viaggia sulla soglia degli 800.000 spettatori con quasi il 12% di share. Difficile comunque che l'Italia decida di importare anche questo show, considerando l'atteggiamento altamente pudico e spesso incoerente dei nostri telespettatori. Comunque, mai dire mai.